La fonte di Piazza Grande è un simbolo per la città di Arezzo perché ha un valore anche simbolico dell'attività della Fraternita Stesa perché è un'opera di misericordia corporale, dare l'acqua agli assetati e quindi ha un valore simbolico, ha un valore storico perché è stata la fonte che ha dissetato la nostra città, è stata la fonte che ha consentito anche il primo impianto dell'acquidotto comunale nella seconda parte dell'Ottocento e ha anche un valore artistico perché esprime la creatività, la genialità, la manualità della nostra comunità aretina. Una nuova vita per la fontana di Piazza Grande hanno infatti appreso avvio i lavori di restauro della fonte per un importo che si aggira attorno ai 15.000 euro e che saranno ultimati tra la fine di luglio e l'inizio di agosto. Il restauratore si occuperà di recuperare sia da un punto di vista proprio di conservazione ma anche di funzionamento delle bocche di uscita dell'acqua e quindi di salvaguardare il bene proprio come un significativo soprattutto elemento che dal 1600 praticamente fa bella vista nella Piazza Grande di Arezzo. I lavori di restauro saranno eseguiti sotto il controllo e la vigilanza della Soprintendenza ai beni culturali. Nell'archivio della Fraternita dei Laici abbiamo trovato tutti i dettagli dal 1603, anno in cui venne installata la fontana, ai giorni nostri tutte le fasi che hanno caratterizzato la creazione di questo straordinario monumento. Nel 1794 venne sostituito il bacile della fontana e nel 1840 per mettere i nuovi cannelli per prendere acqua venne fratturato il bacile che risulta appunto fessurato e soprattutto venne modificato il sistema di deflusso delle acque che produceva un rumore molto più armonico di quello che usa adesso. Quindi dopo che la Fraternita ha ristrutturato l'acquedotto vasariano oggi è possibile arrivare a risistemare questo effetto straordinario che a fine restauro gli aretini potranno godere. Un intervento reso possibile grazie al contributo di Ubi Banca. Il recupero di questa fontana ha un valore simbolico, si inserisce in un contesto di una delle piazze più belle del mondo e quindi siamo veramente orgogliosi di poter far parte e di aver dato questo contributo per la città.